Il progetto dell'ospedale di Muraglia aprirà il suo cantiere entro il 30 settembre 2024 come da cronoprogramma. Arriva a dirlo l'assessore regionale all'infrastrutture Francesco Baldelli rispedendo al mittente gli attacchi dell'opposizione, in particolare quelli di Andrea Biancani, in merito a un presunto immobilismo progettuale a sette mesi dall'accordo di programma sul nuovo ospedale. Noi saremo in grado di partire anche adesso con la gara di appalto, ma qualcuno non si è accorto che è entrato in vigore un nuovo codice degli appalti, che salta un livello progettuale, il codice degli appalti entra in vigore il primo luglio, quindi noi che siamo la pubblica amministrazione ce ne siamo accorti, ci sembra strano che non si accorgano politici che vengono definiti politici navigati. Per Baldelli il nuovo codice degli appalti in vigore da luglio ridurrà i tempi delle opere pubbliche grazie all'introduzione di gare integrate che consentiranno di unire in un unico appalto sia gli incarichi per il progetto, sia i lavori. Intanto è confermato il bando dell'azienda sanitaria territoriale per trovare nuovi locali in affitto dedicati ai servizi, in particolare quelli psichiatrici, che dovranno traslocare entro il via del cantiere del 2024. Grazie Grazie Grazie